salve ragazzi allora questa è una cosa che ho desiderato fare da molto tempo ovvero realizzare un walkthrough di make e disegno ovvero un timelapse mentre a voce accompagno il video era interessante anche per evitare insomma problemi di copyright e cose del genere con musiche di sottofondo e poi era un modo anche per parlare di qualcosa in questo caso oltre a parlarvi del processo lavorativo che sto realizzando volevo anticiparvi che domani il 14 maggio martedì sarò presente per la terza volta sul radio crc sono stato estremamente fortunato in questo caso dovrò parlare di nerd ed è per questo che c'è questo disegno perché il personaggio in questione è proprio il super nerd infatti ho cercato di inserire tutta una serie di caratteristiche da nerd moderno che ci creatano il nerd moderno al fisico spesso e poi ho messo una serie di caratteristiche gli artigli di wolverine il controller la spada di zoro i capelli da goku super saian gli occhiali da geek insomma da geek in sintesi tutta una serie di stereotipi ecco si potrebbe dire del nerd moderno vabbè oltre a parlarvi del del disegno in sé volevo anche introdurvi un pochettino i metodi con cui ho lavorato tanto per iniziare bisogna chiarire che sto lavorando con photoshop questa fase che vedete è quella che viene denominata flat ma prima ho ho realizzato i layout cioè le bozze del personaggio di seguito ho ricalcato quella stessa bozza e poi una volta realizzato il disegno in toto sono passato alla fase di colorazione che è proprio quella che vedete qua quella del fret che è quella della selezione di colori a volte è un po' noiosa perché è quella più meccanica anche se dà la base all'illustrazione completa la parte che mi diverte di più invece è quella che ritorriverà a breve che è quella proprio del chiaroscuro quella in cui si mettono le luci la potete vedere in questa fase qua mi sto solo occupando di selezionare con lazzo le zone che andrò ad illuminare diciamo tra virgolette e poi solo in seguito con lo strumento secchiello vado poi a impostare le luci ad ogni modo non voglio dirungarmi eccessivamente sul lato tecnico quindi mi limiterò alla parte da youtuber che fa tanto figo insomma se vi è piaciuto il video mettete un bel like se vi piacciono i miei lavori non dimenticate di seguirmi su instagram su youtube con andrea enrico art e per il resto al prossimo video si spera ciao 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 ciao